Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog che faccio per così io ho deciso di fare un vlog e adesso si sente ancora però vedi che sei da vicino troppo oggi ho deciso di fare un vlog se faccio così qua sotto si deve sentire perfetto allora oggi volevo fare questo vlog perché volevo farmi farmi aiutare da voi dai abbassati e volevo farmi aiutare da voi per un come si chiama cioè per aiutarmi meglio nei programmi che posso usare per registrare perché adesso sto usando avs video e nell'altro sto usando a tube capture si esatto sto usando questo perché è un programma che avevo fin da prima cioè quando facevo i video quelli la senza senza questo qua e quindi mi mi trovavo bene con quello una volta adesso che e adesso che devo fare i video così cioè mi trovo male perché cioè mi trovo male perché come avete visto nel video di ieri si vedeva malissimo cioè si vedeva male le scritte e niente niente volevo chiedere se mi potete aiutare per questo appunto però adesso sente bene che con il microfono perché ho comprato questo qua ovvero il microfono cinese che che l'ho preso qua dietro a casa mia allora domenica non faccio uscire video no perché sono nello stadio beh se volendo il pomeriggio riesco fino alle 5 dunque se poi già domenica prossima non uscirà niente perché sono sono nello stadio ancora non ma in trasferta se mai faccio un video un mini clip faccio questo appunto per per voi e comunque intanto vi vorrevo ringraziare per i per i aspettane per i 15 iscritti se e le 27 video isolazioni nel video vecchio cioè la presentazione che però è venuta male vi voglio ringraziare per questo domani dovrebbe uscire un video sì non so quale però se ti può fare delle delle challenge se mai invito un mio amico qua se vuole la faccio venire cioè se vuole perché lui volendo vuole non so adesso è vero poi se mai lo chiedo e perché tanto ormai in mattina va alla scuola e lo vedo e gli lo chiedo questo video dovrebbe uscire per le 8 se non viene troppo lungo si per le 8 se no non lo so non lo so perché poi se mai non so le mani quindi vado da mio nonno che se no io volevo comprare un altro microfono però dovevo prendermi l'adattatore no era un bordello c'è un tempo di merda fuori come vedete va bene non si vedrà tanto però però un po' si vede ma poco adesso io ci ho messo la storta io ci ho messo lo scotch su quella telecamera lì vabbè anche perché usano adesso se non si sente lì perché sto usando questo il microfono il microfono ovvero e niente per questo video è tutto se non siete ancora iscritti iscrivetevi per non perdervi i nuovi video per non perdervi i nuovi video questo è lontano così bene perfettamente e niente per questo video è tutto se non siete ancora iscritti iscrivetevi mettete un mi piace sotto nei commenti cazzo ha detto mettete un mi piace qua sotto e se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo domani credo nel nuovo video su qualche challenge forse se mai li faccio da solo mi faccio la prova non ridere challenge adesso vedo ciao